un saluto a tutti i videoascoltatori d'italia medievale oggi presentiamo un bel romanzo storico dal titolo i peccati di sante ostorgio appena pubblicato dalle edizioni pragmala pragmata pragmata io non ci vedo più e ovviamente di emanuela vacca che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite perché ci racconti la storia di questi peccati quindi le abitudine le lascio subito la parola così può parlarsene tranquillamente prego a lei grazie intanto grazie dell'ospitalità grazie a italia medievale e all'associazione grazie all'opportunità che mi offre di poter parlare del mio romanzo di quest'ultimo romanzo che appunto è allora questo è questa è la copertina i peccati di sante ostorgio ed è ambientato appunto a milano nel quartiere che si chiama la cittadella è chiamato la cittadella e appunto in in portanti cinese e allora il romanzo è pubblicato su amazon con l'editore pragmata e dunque come mai questo questo romanzo intanto sono un appassionata di storia medievale e di criminologia quindi praticamente dalla mia penna unendo questi due fattori sono nati dei thriller storici e io ho parlato per anni di streghe di processi di roghi poi un giorno passeggiando per milano ero a caccia di fotografie particolari e mi sono imbattuta nella basilica di sante ostorgio e questa basilica che è antichissima e ha dei due chiostri meravigliosi io sono entrata e ho sentito quest'atmosfera molto tranquilla molto molto di pace ho detto quindi voglio visitarla bene voglio capire bene dietro la basilica c'è la famosa piazza vetra che è la piazza dove purtroppo sicuramente lei lo sa si facevano le esecuzioni capitali i roghi facevano proprio i roghi delle streghe e questa piazza è rimasta malfamata fino a pochissimi anni fa perché ci bazzicavano le bande criminali del tipo Vallanzasca era un luogo di spaccio di prostituzione e adesso vabbè hanno bonificato tutto adesso si va a prendere l'aperitivo alle colonne di san lorenzo dietro poi ci sono le due basiliche san lorenzo e sante ostorgio sono praticamente attaccate li divide proprio questa zona verde che è la piazza vetra anticamente in quella zona lì si sentiva cioè c'erano le concerie di pelle c'erano quelli che fabbricavano le armi in via molino delle armi e c'erano dei magazzini tessili che avevano affittato di vicino i monaci a queste a queste queste questi magazzini che facevano queste cose quindi c'erano odori di acidi tutto intorno c'era la vetra i vetraschi e il vicolo dei vetraschi si chiama così proprio perché questi bambini conciavano le pelli con dei vetri vera schiava no e poverino presto perché comunque tra gli acidi ed e le mani tutte tagliate dai vetri cioè insomma venivano a manca arrivano molto presto allora io ho parlato per anni di streghe a un certo punto mi imbatto appunto in questa in questa chiesa dove scopro che c'era la sede del tribunale dell'inquisizione e del santo ufficio all'interno del 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 convento gravitavano oltre a tutti questi monaci perché erano praticamente nel periodo di massimo splendore ospitava quasi 140 monaci questa questo convento che ha due chiostri e antipicamente pare che ne avesse quattro a pianta quadrata insieme a loro gravitavano l'esercito dell'inquisitore croce signati poi c'erano conversi novizi famigli quindi cioè proprio un un apparato veramente gigantesco e e quindi insomma mi sono messa a studiare appunto l'inquisizione e il tribunale dell'inquisizione che aveva la sede lì lì c'era la sede del tribunale dell'inquisizione del santo ufficio la trama del libro e allora siamo nel 1496 e un frate che ricopre un ruolo importante all'interno del del monastero del del convento sono frati domenicani dell'ordine dei padri predicatori viene trovato ucciso assassinato nella sacrestia della 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 basilica la sacristia è messa proprio di fianco alla basilica insieme alla sala capitolare teniamo presente che all'interno di un convento così grande ci sono tantissimi ambienti sia sopra che sotterranei in questa basilica in particolare abbiamo sotto ci sono i resti del cimitero paleocristiano e ci sono poi anche del tipo delle grandi stanze dove tenevano le derrate dove tenevano le conservavano il cibo sopra invece ci sono al pian terreno dove vivevano c'erano l'infermeria la mensa eccetera in alto le celle dei frati e le grandi sale del 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 tribunale inquisitorio oggi queste sale sono il museo diocesano e sono enormi sono sale veramente grandissime il tribunale dell'inquisizione penso che lo sappiamo tutti che cosa fosse era 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 nato perché si riteneva insufficiente l'apparato della chiesa a contrastare l'eresia soprattutto catara e valdese e allora il papa diede praticamente delegò a soprattutto ai frati minori dominicani e francescani delegò appunto il compito di distruire processi di indagare sugli eretici e anche di chiaramente di processarli poi questa cosa divenne permanente e durò fino a tardissimo cioè l'inquisizione viene sciolta alla quasi alla fine del 1700 allora l'apparato che si muoveva insieme agli inquisitori era di una tale grandezza che quasi impossibile nominare tutti quelli che c'erano dentro perché c'erano vabbè c'erano i mandatari commissari inquisitori gli avvocati dei re chirurghi speziali cioè era un esercito che si muoveva e quelli che partecipavano e che lavoravano per l'inquisizione erano tutti di un ceto sociale abbiente perché così non li dovevano pagare la chiesa non pagava queste persone erano tutti quasi tutti nobili o comunque persone di un certo ceto e chi invece aveva le spese degli inquisitoriali era lo stato cioè il signore il principe del del posto dove andava ad insediarsi il 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 tribunale allora il convento parliamo un attimo del convento il convento ha questi due chiostri bellissimi la basilica e ha un'origine antichissima e la basilica di sant'eustorgio risale al 300 è una delle tre basiliche più grandi di milano la c'è sant'ambrogio il duomo e terza viene appunto la sant'eustorgio che ha anche il campanile più alto della città è 75 metri la calcatrappola questo campanile grandissimo lì vicino c'è anche un fonte nel libro io cito anche questa questo fonte di san barnaba dove il santo all'inizio proprio ne stiamo nel 60 65 dopo cristo già lui catechizzava e convertiva le popolazioni locali e c'era questa questa acqua che dicevano miracolosa che era un fonte proprio lui aveva aveva creato questa piccola cappella dove da lì poi dopo è nata la basilica di sant'eustorgio perché ustorgio è il primo vescovo di milano e quindi praticamente da lì sono in collegamento la basilica con questo fonte battesimale sono sono molto vicini e si chiama appunto fonte di san barnaba e dov'è questo fonte oggi è nelle fondamenta di una di un cortile lì di via via santa croce al numero 8 che non è più visibile al pubblico ed è un pezzo raro della della dell'architettura milanese e purtroppo non è più visibile poi ci sono anche le fondamenta della della basilica che sotto la basilica attuale c'è la basilica paleocristiana che il ritrovamento è avvenuto all'inizio del novecento di questi resti della basilica paleocristiana e anche del cimitero paleocristiano che era un po fuori una necropoli che era appena fuori la basilica quindi il sito è antichissimo di questo possiamo essere certi allora un'altra particolarità perché questa è la chiesa delle particolarità l'arca dei re magi c'è lì dentro che è stata scoperta scavando levando un pilone della della basilica sotto questo pilone hanno trovato quest'arca immensa che adesso è esposta nella basilica dove dentro hanno trovato dei corpi e c'era anche una moneta di costantino all'interno di questa di questa arca quindi era un fatto veramente particolare e tutti hanno detto praticamente al momento si è pensato che fossero proprio i re magi questa cosa però è un po una diatriba che ancora non è molto chiara non non tutti dicono sì erano loro eccetera fatto sta che le reliquie sono sempre rimaste a rappresentare comunque i tre magi tant'è vero che ci sono le stelle a otto punte uniche in tutta milano abbiamo la stella a otto punte in cima alla chiesa in cima al campanile e nel nella fresco del frontespizio della della basilica non non esiste una chiesa a milano che abbia una stella a otto punte sulla sulla quindi è un simbolo molto particolare la stella a otto punte tra parentesi e però lo spiego nel libro perché è molto complicata la cosa rappresenta tante cose poi quindi stavo dicendo appunto che i re magi avevano queste reliquie arriva il barbarossa e si frega tutto se li è portati a colonia siamo nel 1100 circa e sono rimaste proprio una teca piccolissima che loro nel giorno dei re magi il giorno dell'epifania quando c'è la processione in santo eustorgio espongono questa teca con quelli che dicono siano i resti appunto dei magi un'altra cosa particolare è la cappella portinari che è un esempio di scultura veramente unico unico secondo me proprio in tutta milano ma anche in tutta la lombardia di di arte del periodo che è stata fatta non è abbastanza recente perché all'interno della di questa di questa ara enorme che c'è appunto nel dietro la basilica è stata costruita apposta c'è la tomba di san pietro martire che morì appunto ucciso da dei catari e c'è la leggenda appunto che se voi guardate in piazza santo eustorgio c'è una statua con un'accetta proprio in mezzo alla testa qui e questa accetta è perché lui è stato proprio ucciso a colpi di accetta e santo eustorgio per i milanesi è il protettore dei mal di testa e quello che fa passare i mal di testa se voi avete mal di testa andate a santo eustorgio è andata a dove c'è il il come si chiama il sarcofago della tomba di san pietro e dicono che appunto sia il dottore che fa che fa guarire allora dicevo veniamo al romanzo nel romanzo parlo appunto di questo omicidio e quindi spiego la vita del convento la vita la storia dei domenicani e e soprattutto vabbè questo omicidio all'interno del convento probabilmente non ci sono situazioni così chiare perché da dove viene questo 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 assassino chi è che chi è che gira nel convento e che uccide un una persona mite tra parentesi perché non era neanche un era un personaggio sì ricopriva un ruolo importante ma era una persona tutt'altro che invisa quindi viene incaricato monsignor fronimo verri di svolgere le indagini e lui attraverso tantissime peripezie arriverà anche a scoprire appunto chi c'è dietro e in tutto questo ambaradan di situazioni che si creano parlo dei testi antichi dei testi miniati perché comunque c'era c'era all'interno dei monasteri c'erano coloro che leggevano i testi per vedere depurarli dalle parti che potevano dare fastidio per le pubblicazioni in stampa parlo dell'alchimia perché comunque i frati hanno fatto anche per un certo periodo uso di sistemi alchemici l'erboristeria perché i monaci hanno comunque anche loro detengono questo questo primato di avere avevano gli orti coltivavano avevano i loro giardini particolari e quindi sono bravissimi un po come le streghe le donne urbane che compaiono anche nel libro un paio di streghette ci sono e e quindi c'è dietro molto molto studio perché tutte queste cose sono documentate e poi parlo di un altro monastero che c'è lì vicino il monastero delle dame e virgini della vettabbia che anche quello è andato perduto tranne un paio di chiostri che sono stati salvati dalla fondazione pellegrini cislaghi di milano e che sono all'interno purtroppo purtroppo tra virgolette di questa proprietà io sono riuscita a vederli questi chiostri sono di una bellezza veramente incredibile quindi diciamo tutte queste cose sono all'interno del romanzo che è proprio una storia di un po di cappa e spada perché comunque l'inquisitore dovrà affrontare tanti pericoli tante situazioni particolari e lo aiuteranno ovviamente delle persone anche del popolo questa donna urbana fiammetta che lo aiuterà a capire di cosa è morto questo frate poi ci sono altri personaggi che girano e poi ci sono anche delle sorprese finali perché arrivano delle reliquie che non si capisce bene come hanno fatto da arrivare fino a lì un po come quelle dei remaggi e niente altre cose all'interno della basilica ci sono prima degli sforza i visconti avevano eletto questa basilica a loro punto di sepoltura infatti se guardiamo la basilica all'interno è piena di tombe dei visconti oltre altri personaggi importanti dell'epoca però parliamo ancora del 1400 1300 1400 perché dopo il 1500 i domenicani lì c'è una diatriba tra ludovico il moro che vuole spostare i domenicani in santa maria delle grazie e lì c'è una piccola rivolta all'interno del monastero perché i domenicani non se ne vogliono andare non vogliono passare dall'altra parte dove ci sono i un altro tipo di domenicani gli osservanti gli osservanti sono una tipologia i conventuali erano quelli che volevano rimanere lì dove c'era appunto il tribunale alla fine riescono a rimanere lì comunque grazie all'intervento di alcuni personaggi importanti e rimangono fino alla metà del 500 poi il tutto verrà trasferito a santa maria delle grazie dove adesso sono lì mi sembra i domenicani mi sembra che la sede domenicana sia proprio in santa maria delle grazie attualmente e niente il libro insomma diciamo che questo questo inquisitore è un inquisitore un po tra virgolette sui generi perché io non parlo di roghi non parlo di streghe non parlo di ma sono proprio i rapporti interni che ci sono in un convento quindi un po me li sono costruiti guardando e studiando la vita dei monasteri la vita dei dei conventi dove vivevano i frati tra di loro ovviamente non sempre tutto andava liscio e la vita aveva perché anche all'interno c'erano delle rivalità c'erano delle qualcuno voleva avere più potere di un altro e quindi sì che si sono crea si creano anche dei conflitti a un certo punto ci sarà una parte del romanzo che si svolge anche a roma perché siamo nel periodo in cui c'è papa alessandro sesto borgia e quindi io faccio c'è un due tre capitoli che parlano proprio del dei borgia e di una anche lì un piccolo intrigo dove viene viene a trovarsi in mezzo una una donna che è una vecchia conoscenza dell'inquisitore di quando ancora non era non non era entrato nell'ordine ecco questo è più o meno il riassunto del romanzo se mi vuole chiedere qualcosa lei ma è mi sembra un efficace riassunto poi san oddio io la vecchiaia fa bruttissimi scherzi sant'eustorio è la mia è la mia basilica preferita no davvero è in assoluto quella che io amo di più ma per tante cose che contiene dal punto di vista del dell'arte della della storia poi lei l'ha già l'ha già raccontata bene no quindi il campanile è l'unico che in cima una stella otto punte nessun'altra chiesa lo ce l'ha l'arca dei re magi l'arca di san pietro martire che è un capolavoro dell'arte trecentesca quindi veramente e poi c'è il museo diocesiano di fianco quindi un luogo da andare assolutamente a visitare magari dopo aver acquistato questo romanzo e di ritrovare le atmosfere e tutto quello che ne deriva io in realtà domande non ne ho perché voglio che vadano in libreria a comprare romanzo se no svegliamo mi sembra mi sembrerebbe poco utile ai fini delle vendite no quindi certo certo volevo dire che questa zona di milano è attualmente una delle più visitate in assoluto perché è una zona che ha una storia molto antica e quindi soprattutto in quel periodo in oramai le falde acquifere si sono abbassate sono hanno coperto tutti i navigli ma in quel periodo erano tutti scoperti navigli e c'era oltre alla vetta via c'era la vetra c'era il ticinello tutti tutti lì siamo nella conca interna dei navigli quindi era pieno d'acqua e tutte le basiliche ma tutte no ma gran parte delle chiese vengono costruite di solito vicino a delle sorgive perché ovviamente avendo l'acqua si ha anche il potere di possederla di distribuirla ma pensi che mi sono imbattuta a un certo punto leggendo dei chiostri di questa fonte che stava all'interno del monastero del convento continuo a sbagliarmi all'interno del convento in un'ala nell'ala nord del secondo chiostro sotto nelle fondamenta c'era questa sorgiva che i monaci stessi dicevano non abbiamo bisogno di pulire i pavimenti perché quest'acqua era talmente tanta e talmente fluiva in maniera libera in tutti gli ambienti che era anche troppa e loro che avevano appunto praticamente la giurisdizione di tutta la zona la davano agli altri che eravano lì nel quartiere la davano anche alle altre chiese ed erano loro che la gestivano a queste sorgenti erano i domenicani che gestivano l'acqua quindi dove c'è l'acqua c'è anche diciamo è una sorta di garanzia no hai un potere in più ecco quando gestisci le acque bene allora io a questo punto ricordo il titolo di questo romanzo che è i peccati di santeustorgio pubblicato da edizioni pragmata da pochissimo di emanuela vacca che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra ospite e che ce l'ha illustrato così bene e che io ringrazio tantissimo grazie a lei grazie tantissimo a italia medievale a lei dottor cali grazie ancora grazie per il dottore di solito mi viene da rispondere che non sono nemmeno infermiere quindi non si preoccupi non sono mai dei titoli a tutti i nostri utenti invece ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale youtube dove potranno trovare tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi a presto buona serata grazie ancora grazie a tutti grazie a tutti